ciao ragazzi e benvenuti a tutti ma proprio ragazzi a tutti in un nuovo video io sono fox e oggi vi presento questo aggeggio ragazzi aggeggio tecnologico molto molto interessante che cos'è ragazzi questo è un tra parentesi salva vita salva circuiti salva tutto smart vai con l'intro bene ragazzi allora come già detto nell'intro eccovi il prodotto di oggi l'ho trovato ragazzi molto molto interessante è compatibile con comunicazione wifi perciò puoi programmarlo anche da remoto puoi leggere i dati anche da remoto eccolo qui come acceso ha una linea di ingresso ok che è questa qui è una linea di uscita eccola qui il display retroilluminato ti dà il conteggio in tempo reale dei kilowatt ore in più internamente ha una batteria che fa da batteria tampone perciò anche se se ne va via la luce non perderai la memoria dei kilowattora in più ti conteggia i volt gli ampere i miliampere e tanto tanto altro qui hai i tasti selezione eccolo qui setting sopra sotto on off questo funziona anche per avviare la connessione che poi va ad accendersi il led wifi comunque ragazzi è un bel prodotto perché perché uno ti protegge su sovrattenzioni perciò se tu vai a programmare una tensione di ingresso cioè da qui di massimo 222 volt ok se il misuratore rileva una tensione di 223 stacca stacca e ti protegge il tuo carico idem anche con sotto alimentazione sotto una soglia stacca sopra una soglia stacca e tantissimo altro qui ragazzi eccolo qui protezione di sottotensione da 90 a 190 regolabile protezione da sovrattenzione da 100 a 300 regolabile protezione da sovracorrente da 10 a 80 ampere tempo di connessione ritardo dai 5 a 90 secondi protezione delle perdite elettriche se hai piccole perdite da 10 a 99 milliampere lui le capta le sente e andrà a fare come una sorta di salvavita ovviamente ragazzi il vostro salvavita fisico non lo togliete tenetelo sempre perché quello nasce per quell'uso come anche il magnetotermico teneteli sempre questo è un'opzione in più molto utile nei casi in cui per esempio ci siano delle sovrattenzioni dall'ente fornitore energetico perché capita che la tensione in ingresso nel nostro contatore sia molto più alta del normale io conosco ragazzi tante persone che anni fa hanno bruciato computer hanno bruciato elettrodomestici appunto per questi problemi ragazzi e non si scherza invece grazie a questo strumento molto interessante e ragazzi che costa anche il giusto è costa anche il giusto trovate sotto in restrizione il link con lo sconto riservato e potrete appunto andare a proteggervi tutti i vostri impianti la rete d'illuminazione è impostabile circa 15 secondi e poi intervallo di registrazione del consumo kilowattora da 10 a 500 kilowattora voltage meter amperometro tutto tutto vedi tutto è una cosa ragazzi stupenda una cosa davvero ben fatta andiamo a leggere le caratteristiche 230 volt 220 volt da 80 a 400 massimo e infatti puoi andarlo poi a regolare a quanto tu vuoi frequenza 50 60 concurrent limit 80 10 over voltage 100 300 sotto voltage 90 190 questo già l'abbiamo letto errore del 2 per cento reset start delay 5 secondi 90 secondi comunque ragazzi è davvero davvero molto molto interessante può misurare al massimo 9999 kilowattora e ovviamente poi resettabili giustamente e niente eccolo qui un va nella cassetta normale din dei contatto dei contattori e dei magnetotermici dei salvavita dimensioni 47 45 38 85 come lunghezza anche la mollettina di blocco e automatico e riconnessione perciò se si stacca per qualsiasi motivo in automatico quando quel problema non si presenta più si riattiva e qui ci dà di nuovo over voltage possiamo anche on off da remoto cioè da wifi tutti questi dati sempre comunque ce li avremo sull'applicazione ok applicazione che dovrebbe essere tuya smart e infatti eccola qui tuya smart o forse anche l'altra smart home ok si va a settare il tutto si connette e ti dice tutto in tempo reale ragazzi ti dà tutti i dati vedi breaker così è come risulta sull'app e tu da qui volendo puoi accendere e spegnere anche quel circuito perciò davvero interessante questa è la schermata vedi kilowattora e ragazzi eppure sapete che non è male molto interessante non lo so se io lo vado a mettere sul mio impianto fotovoltaico anche perché io lo dovrei andare a mettere in uscita ai va bene ci penserò ragazzi ci penserò e forse forse lo prendiamo e lo andiamo a impostare lì anche perché non è tanto grande occupa poco spazio boh è smart perciò io a distanza posso sapere nella giornata che consumi totali ho avuto dato che il mio inverter non me lo dice comunque va bene ragazzi questo è il tutto se ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale al prossimo video ragazzi ciao belli a tutti